Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef, e che se oggi giocheremo a Roblox! Più precisamente, oggi giocheremo ad Azure Mines Ce l'avete chiesto tantissimo, sta spopolando su Roblox perché è in assoluto il gioco più giocato del momento Quindi abbiamo deciso di farci un video Esattamente, praticamente sembra una mappa dedicata a Minecraft Dato che il nostro compito sarà quello di prendere i minerali Semplicemente con questo bellissimo piccone Ovviamente l'obiettivo sarà quello di trovare dei minerali sempre più lari E la cosa bella è che ricorda anche un ponte Icune Perché con questi minerali noi potremo potenziare la nostra base e renderla sempre più bella Spiegata brevemente, siamo pronti per iniziare No vedo allora, dove sei? Dai che andiamo a minare Sono qua, eccomi, ciao? Mi vedi? Dove? Sono io Stef, è il film magnifico, sei tu Esatto, esatto Perché è un altro personaggio? Allora, è successo questo Praticamente dopo aver fatto sapere della ciurma di Jeff I consolini sono impazziti e tutti ci vogliono entrare Quindi mi sono vestito l'incognito Allora Ahah, dimmi Secondo me è una bugia Perché nessuno vuole entrare nella ciurma di Capitan Jeff Ci sei rimasto malissimo e ti sta inventando queste cose Perché sappiamo tutti che vogliono entrare nel club dell'albato di Signor Marialino C'è la fila di sei mesi per entrare nella ciurma di Jeff Ma non è vero, sei un brutto bugiardo Infatti guarda, non mi riconosce nessuno Comunque Sì, dimmi Vorrei analizzare il tuo personaggio Ok Che cosa hai in faccia? Cosa sono quegli occhiali terribili? Sono dei bellissimi occhiali da sole che hanno messo gratis Se ci tengo a precisarlo sono davvero all'ultima moda Mi piacciono molto Sto pensando di metterli anche sul mio personaggio Sì, sì, sei bruttissimo E comunque vorrei far notare che davvero nessuno si è accorto che sei tu Vedi? Vedi che sta funzionando? Sono in iconito Hanno salutato tutti a me Addirittura dei consolini mi hanno chiesto di fare la foto assieme E nessuno ha calcolato te Probabilmente pensano che sia Un fan Un fan, esatto Che si è messo il nome di Steffi il magnifico Il mio piano sta funzionando Uh, ho trovato un bel po' di argento e di ferro Oh, bello, sì, sì, sì Sei gelosa, vero? Tu sei andata in un postaccio dove non c'è nulla No, hai ragione Sono in un postaccio e non sto trovando niente Quindi sì, un pochettino sono davvero invidiosa Vieni qua, bel ferro Sì, sì Comunque praticamente in basso a destra Oltre all'inventario c'è anche il nostro livello Esatto Più saliamo di livello mi sa che più miniamo velocemente Quindi più è facile appunto prendere i materiali Quelli un po' più rari Perché sono più lunghi Non so se avete notato Esatto, esatto Sì, 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 sì Io sono esperto, lo sai È esperto Sì Ma ti già Sì Perché sono bravissima No, il fatto è che è successo un problema Ok Io sono entrata per provare il gioco Ok Perché sei ammalata Per capire No, aspetta, devo raccontare bene la mia storia Ok Per capire se fosse un gioco adatto per fare una serie Sì, mi sembra giusto, certo Esatto, è giusto provarli, vedere un po' come sono E mi sono lasciata prendere la mano Non sono più riuscita a smettere di giocare E tu lo chiami prendere la mano? Cioè giocarci un'ora e mezza e prendere la mano? Sì Ok Poteva andare peggio perché ci sarei voluta rimanere una cosa come sei ore Quindi ringrazia Volevi già finire la mappa, vero? Che dopo un'ora e mezza io ho chiuso il gioco Ma che ringrazia No, devi ringraziare Dovevamo partire alla pari Essere un tutt'uno No E mi ha abbandonato, ho capito Allora Tutti sanno che quando si tratta di farmare Io sono la regina del farm Che io so sempre Ogni volta che mi metti in un gioco del genere Non mi ci porti più via Quindi purtroppo è successo questo Lo sappiamo E quindi vedi sono già esperto Sì, sì, sì Ho anche una bella base Però non te la faccio vedere Oh, meno male Perché non la volevo proprio per nulla vedere Allora sono a 68 Che cattivo Lo so 68 di 100 Sto trovando un sacco di materiali rari Che potrò usare per iniziare a potenziarmi Sia il piccone Sia la base Adesso come torniamo in base ragazzi Capirete molto di più di questa mappa Oh mio Dio Che hai trovato? Ho trovato un buco con una miniera No, ma voglio venire anch'io Questa è una miniera speciale ragazzi È un po' come Minecraft Si può Oh, che cosa è questa cosa? Si possono trovare esatto Aspetta Aspetta Un Obtainium Quelli sono belli Sai cosa servono? 5000 di exp A parte che danno tantissima exp Li vedi lì A sinistra Sì, a sinistra Esatto Quelli servono per comprare cose fighissime Quindi è una buona cosa riuscire a trovare Cioè per shoppare? Sì Poi faremo vedere anche tutti gli shop Non voglio dire tutto adesso Ok, ok Allora in questo momento Però servono per comprare cose fighissime In questo momento ho 91 di 100 E sembra che sono in una miniera Dove è pieno di roba rari Oh mio Dio Oh mio Dio C'è una metista Una metista Bella la metista Mi sa che la provo a prendere Mi sa che la provo a prendere Dovresti riuscirci Non penso sia un problema Sì, perché si trovano le caverne Dentro le caverne In sostanza Come Minecraft Quando tu stai minando E trovi l'apertura di un dungeon In quei posti troverai più minerali Perché è più aperto Esatto Quindi vedi meglio Allo stesso modo In questa mappa Hanno riprodotto questa cosa Il che lo rende fantastico La metista Ci vogliono 5 minutini a prenderla Non lo so Lo so È davvero l'unico Però credo che mi darà un sacco di exp E credo che sia davvero rarissima Il problema è che ho l'inventario Praticamente pieno Di già Altrimenti avrei preso un sacco di ro Che hai visto? 10.000 di exp ho visto Oh mamma mia C'è il topazio Wow A metista più topazio subito Anche quello ti dà tantissima exp Prenditela assolutamente Sono già professional Bravo Bravo Vedi Sei già un esperto Che livello incredibile Professional Proprio livello incredibile Esperto Ti ho già raggiunto Sì 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 Allora Sono a 97 di 100 Vediamo se gli ultimi 3 di inventario Li riesco ad utilizzare per qualcosa di raro Allora qua vedo un po' di coale di ferro Vorrei qualcosina di rarino dai Forcia Forcia Vedo una luce viola Che credo che sia per la metista Credo di sì O la metista O quegli altri Obte Come si chiamano? Obtenium Obtanium Non lo so Perché hanno più o meno la luce della tonalità simile Uno è fucs e uno è viola Sono più o meno simili Niente Niente Io ho trovato un safiro Come si chiama? Saffiro Ma quello è rarissimo Ma davvero? Sì Praticamente serve Con uno di zaffiro puoi sbloccare una costruzione importantissima Wow Bello Sì È proprio una Davvero? Sì una costruzione che è proprio solo uno di zaffiro Io non l'avevo mai trovato Si chiama Allora Sapphire Sapphire Allora dai Torna a cosa anch'io Perché voglio vedere cosa riesci a fare Voglio vedere cosa riesci a fare Sei curiosa Oltretutto sai una cosa Anche se sono un esperto ormai Ok Mi sono dimenticata di potenziare gli utensili Non l'ho mai fatto Quindi Adesso Sì Ti migliori la base Poi andiamo insieme a potenziare gli utensili Ok Allora Ok va benissimo Come funziona la mappa Allora Praticamente Mining operation È una delle cose più importanti Noi clicchiamo Qua ci chiede ad esempio Uno di ferre 3 di coal Facciamo upgrade E puff Si costruisce Adesso praticamente qua Da touch to collect Compariranno dei soldi Che passandoci sopra Come in un qualsiasi tycoon Esatto Riceveremo i soldi Ovviamente più sale di livello Più soldi frutta E questa cosa è fantastica Vediamo se riesco a portarla anche al 2 Dovresti riuscirci Sì 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 Perfetto Dopodiché Un'altra cosa importantissima È lo storage management Che ci permette Di ampliare l'inventario In modo tale Da avere più spazi Per quando andiamo A prendere i minerali Io infatti L'ho portato a livello 1 Dovresti farcelo anche tu Il primo livello che puoi potenziare E guarda quanto sei già ad inventario 300 Che è molto Bellissimo Molto meglio Come usiamo l'inventario Praticamente facciamo così E possiamo depositare Tutto quello che vogliamo In questo modo Depositiamo tutto in base E poi torniamo a minare In modo tale Da avere un sacco di spazio libero È bellissimo È bellissimo È troppo bello È bellissimo Allora lui invece Che è quello per fare gli scambi Costa un rubino Che purtroppo Non ho Non l'ho trovato il rubino Ho trovato topaci Ho trovato un sacco di cose Ma niente rubini Vedi Questo qua Il research and development Ti costa uno di zafiro Quindi se vai Te lo puoi Appettere Allora Io piango Lì nel rosso Io qua Esatto Adesso selezioni Il ferro E metti 3 E poi fai 7 slot Ok Ok perfetto Adesso fai Approve trade Che carina questa cosa È come i pokemon È uno scambio di pokemon Ma con i minerali E così io ti ho dato 4 di pietra Per 3 di ferro Grazie Bellissimo Mi piace questa cosa Che si possono anche Scambiare i minerali Perché così ci si può Anche aiutare a vicenda Piuttosto che fare Tutto da soli È bellino Esatto Credo che addirittura Puoi dare dei materiali Per soldi Ovvero i coins In modo tale Che puoi anche proprio Vendere ciò che farmi Per farti i soldi Capito Esatto Hai anche queste possibilità Ok è tempo di potenziare Assolutamente sì La cosa migliore Allora Clicchiamo qua Posso fare l'iron pkx Che dovrebbe migliorare Non so esattamente in che cosa Però lo posso fare E adesso finalmente L'ho craftato Il mio obiettivo È trovare Almeno un rubino E un zafiro In modo tale Da poter sbloccare Anche quelle altre costruzioni Ma perché non c'è Steph Guarda in chat Che poi continuano A scrivermi Perché non parli Perché non parli Perché praticamente Pensano che io Stia giocando da sola E quindi in nessun modo Si aspettano Che invece stiamo registrando È epica questa cosa È bellissimo Allora Andiamo in profondità Andiamo in profondità A che profondità arriviamo Tantissimo Quindi buttiamoci giù Senza nessuna paura Andiamo più giù che possiamo Sono caduta dalla tua testa Oh mio Dio Aiuto Siamo a 180 80 Verrà ne ho messa anche un'altra Cioè non sapevamo Ma secondo te Ma secondo te la luce La speranza di trovare Non lo so Però non mi lamento Vabbè Allora Nel frattempo ci raccontiamo Una storillina Aspetta vediamo Contexto mi da 25 Sì non ne da È vero Mi sono dimenticata Di dirti che praticamente Non dà esperienza Però almeno ti puoi sbloccare Il mercatino Esatto Esatto Quello è molto utile Torniamo in base E poi torniamo qui Ok quindi torniamo Perché non ci conviene risalire Allora Nel mentre mi sblocco questo Non ci conviene risalire Upgrade Oh mio Dio Hai visto che carino Ti apparei lo scienziato pazzo Come ti dicevo Guardalo È carinissimo Ma io voglio poter fare qualcosa Con lei Allora Credo che aumenti La velocità di speed Con la quale miniamo Esatto Eppure i soldi E l'esperienza che facciamo E più lo potenzi Più queste cose aumentano Quindi è utilissimo Sì Sì Bene 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 Invece questo per portarlo Al 3 mi chiede 20 di ferro 15 di argento E 15 di carbone Ok Quindi Non ho idea Neanche se ci vuoi Ferro Argento Carbone Ferro Argento Carbone Non ce lo ricorderemo mai Vero Nuovo obiettivo Sei pronta Sì Quindi andiamo A una profondità Di quanto Secondo me Non troppo Aspetta perché posso anche Sbloccare Il mercatino Perché in effetti Ho trovato anche il rubino Sì Quindi È carinissimo Il mercatino Posso vendere 157 di pietra Per 68 soldini Bello come scambio Carina questa cosa Sì Però non ho abbastanza pietra Lo so che sembra il colmo Non avere la pietra Però Che poi Abbiamo delle offerte diverse Lo sai Tu che cos'hai? Io posso vendere 4 di oro Per 432 gold Eh vabbè Ma loro non abbiamo mai trovato Lo so Quindi è un po' un pacco È un po' una fregatura Comunque Andiamo a 50 70 metri Di profondità E prendiamo Argento Carbone E ferro Non ci crederei mai Ok ma ho riempito Tutti e 300 Gli slot D'alimentario Davvero? Ma quanti minerali hai preso? 193 di pietra 30 di argento 29 di ferro 42 di carbone E 6 di bronzo Caccia grossa di minerali Eh? Bravissimo Bravissimo Allora Quindi adesso posso Migliorare la mining operation Perché mi chiede 20 di ferro Che ce li ho 15 di argento Che ce li ho E 15 di qua Che ce li ho Livello 3 Adesso chiede 50 di ferro 35 di argento 5 rubini E 5 zafiro Eh vabbè Ma sarà complicatissimo Ci rivediamo Tra un mese Esatto Dovremmo minare E farmare Ah questo è quello Che volevi fare tu Il data Praticamente Dovrebbe Servire Mica l'ho capito Guarda che bellino però Non l'ho capito Neanch'io Che serve? Credo Allora Collect data From mining To produce XP Increase optimal Mining depth Credo Sì 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 È importantissimo Allora Praticamente Se sali su questo diamantino Come quello delle monette Ti dà XP Ok Che è fantastico Certo Inoltre Aumenta la profondità Alla quale tu puoi minare In modo ottimale Ah Ok Sì Utilissimo E lo vedi lì a sinistra Alla quarta concina che hai A sinistra Sì Che hai 100 Sì Sì A me è andata a 400 Wow Sì 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 Quindi sarà utilissimo Per potenziarlo Per potenziarlo Per potenziarlo ancora Altri 5 di copper 5 di ferro E 70 di monette Quindi Anche abbastanza semplice Portarlo al 2 Dovete decidere voi ragazzi Nei commenti Se continuiamo questa serie Ovviamente come sempre Ci basiamo dai likes Dalle views Da quanti commenti Riceverà questo video E decideremo se fare L'ennesima miniserie Ne stiamo facendo 2000 Ma non vale È colpa loro che fanno uscire Queste mappe fantastici Non è colpa nostra Non è colpa nostra Quindi fateci sapere Se volete continuare Questo gioco Dato che a noi È piaciuto tantissimo Come sempre E ci fermiamo così ragazzi Beh ragazzi Piaceci così Se iniziateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao